Sei pronto per una nuova sfida? Hai mai pensato a diventare un GoSpaces Ambassador? Ecco un piccolo tutorial che ti dimostra come fare. Ti invito ad esplorare questa sfida, che non sarà semplice, non tutti verranno accettati, però è sempre una bella sfida. Si cercano docenti che amano condividere e crescere insieme all'interno di un team internazionale. Per cui ti verrà chiesto una buona conoscenza della lingua inglese. Tramite un application test ti verrà chiesto di dimostrare la tua conoscenza di GoSpaces e poi ci sarà anche un piccolo corso per principianti. Ti verrà chiesto una buona dose di passione, che lo dimostri tramite la condivisione dei link di alcuni dei tuoi lavori e la voglia di condividere oggi e anche in futuro quello che fai con altri docenti. Esistono tre livelli. Ogni livello di partecipazione è una partecipazione più intensa con la comunità di GoSpaces e con il team di GoSpaces. Per accedere al GoSpaces Ambassador Program basta scanalizzare il codice o accedere al link che è inserito in fondo al video. Un breve promemoria, step by step, quindi fai l'application test, fai il corso, crea un video in cui ti presenti e poi quando hai fatto tutto mandi una mail al programsgospaces.it Se ti serve puoi utilizzare il mio codice per il trial per 30 giorni per un docente e 99 studenti. Spero che questo tutorial ti sia utile e che accetti la sfida se hai tempo. Ah, attenzione! Si può presentarsi due volte all'anno per l'ambassadorship entro il 31 di luglio e entro il 31 di gennaio. Buona fortuna! A presto! Grazie!